Vai! Ciao ragazzi, secondo saluto per i ragazzi di YouTube, abbiamo iniziato da poco la live e oggi è il 20 novembre 2024 e 40 anni fa, come molti di voi sapranno, uscì Dragon Ball, cominciò Dragon Ball su Quick Kick Short and Jump e cominciò la seconda grande avventura serializzata di Toriyama, dopo tutto Slumperale avventura che ci accompagna ancora oggi con altre serie, con spin-off, eccetera avventura che ha accompagnato tantissime generazioni nel corso del tempo da quella che l'ha vissuta direttamente su Karta, su Quick Kick Short and Jump da quella che l'ha rivissuta successivamente tramite l'anime da quella che l'ha rivissuta per una terza volta tramite Dragon Ball Super e chi magari la sta vivendo adesso grazie a Dragon Ball Dino però il discorso su cui mi volevo concentrare oggi è come io ho vissuto Dragon Ball qual è il mio rapporto, qual è stata la mia storia con Dragon Ball che ha seguito delle tappe particolari non è andata, come per molti in Italia perlomeno semplicemente guardando il cartone su Italia 1 di Dragon Ball Z o insomma scoprendo le serie nelle maniere canoniche tramite il fumetto, eccetera no il mio primo approccio a Dragon Ball in assoluto guardandomi indietro è stato su PSP con Dragon Ball Shin Budokai Shin Budokai 1 che adesso vi mostro anche che era questo gioco, questo picchiaduro stile classico niente di eccezionale era tra l'altro un porting della saga classica di Budokai ma su console portatile con molte meno meccaniche rispetto al gioco originale oh zio pera, ve lo mostro subito eccolo qua, era questo il gioco era questa roba qua niente di eccezionale chiedo scusa alla chat cioè ossia ma asciugamano e Mattia che io saluto che non sto cagando perché stanno scrivendo solo minchiate come al solito quando voglio fare un discorso serio per poi approcciarmi subito dopo a Shin Budokai 2 gioco a cui ho giocato relativamente poco molto meno rispetto a Shin Budokai con cui invece conservo tante memorie e che tra l'altro mi diede una visione completamente distorta di quello che era Dragon Ball perché i giochi di Shin Budokai avevano questa grande caratteristica di avere quello che poi si sarebbe rivisto in Xenoverse con le storie alternative che già erano presenti in alcuni giochi di Budokai ma tutta la storia tutta la campagna principale era basata per l'appunto su su questo fattore che se non sbaglio terminava con lo scontro con Janemba e Gojeda era un po' particolare ora questo fu il mio primo approccio a Dragon Ball successivamente mi informai su Dragon Ball tramite mio padre e mia madre però in particolar modo mio padre ho questo ricordo che mi raccontò tutta la storia fino a Dragon Ball GT di Super Saiyan 4 e con cui scoprì insieme a mio padre il Super Saiyan di quinto livello che non esisteva ma che lui era convinto fosse reale quindi non era convinto anch'io ovviamente ma ovviamente non lo era lo sappiamo tutti però come sarà successo a molti il Super Saiyan 5 è stato un mito per tanti bambini durante a me era durante il periodo delle scuole elementari anche se non avevo un buon rapporto con i miei compagni alle scuole elementari ricordo che per queste cose si faceva sempre comunità e quindi ci si portava a scuola la foto stampata di Goku Super Saiyan 5 per dimostrare al compagno che esistesse come se la foto volesse di qualcosa che poi ovviamente esisteva tecnicamente ma non eravamo a conoscenza del concetto di canonico no per noi era o vero o finto c'è la foto o è il reale poi io mi ricordo che mi informai a una certa e cominciai a smentire i miei compagni ma guardate che non è una cosa vera guardate che non esiste nessuno mi dava retta e dicevano ma c'ho la foto c'ho la foto sì ma non è la stessa cosa niente grazie Alexone grazie per il settimo mese grazie davvero dicevo e e questo fu la mia prima fase con Dragon Ball il mio primo punto d'approccio a Dragon Ball ossia tramite il gioco per la PSP e questi racconti scansonati di mio padre che non riflettevano propriamente la storia per quella che era ma la raccontavano tramite un suo filtro che comunque me lo rese interessante e affascinante subito dopo Shin Budokai il secondo approccio diretto che ebbi con Dragon Ball fu con Dragon Ball Xenoverse 1 su Xbox 360 gioco che demolì io penso di aver giocato migliaia di ore a Dragon Ball Xenoverse 1 perché amavo la componente RPG amavo l'idea di poter costruire il mio personaggio all'interno di quel mondo che avevo cominciato a conoscere praticamente solo per storie alternative perché per l'appunto Xenoverse ha solo storie alternative Shin Budokai ha solo storie alternative la storia di Dragon Ball la conoscevo perché me l'avevano raccontata quindi a conti fatti non conoscevo veramente Dragon Ball conoscevo dei prodotti legati a Dragon Ball però mi affascinavano i design mi affascinavano le trasformazioni mi divertivano mi casavano e mi casava anche in Xenoverse in particolar modo questa forte componente RPG per cui io ero propriamente inserito all'interno della storia e la vivevo direttamente per me era una cosa incredibile e lo demolì veramente ci sono anche dei miei video su YouTube in cui faccio dei tutorial su Dragon Ball Xenoverse c'è il famoso video in cui parlo di Toriyama quando ancora non lo conoscevo per nulla perché non avevo letto uno straccio di un suo manga avevo letto il primo volume di finale e basta mi pare addirittura anzi no perché tecnicamente c'è il terzo contatto diretto con Dragon Ball finalmente quello che ha veramente senso vivere perché si tralasciando qualche puntata vista la mattina presto sulla Rai sulla Rai no era impossibile fosse Rai sulla Mediaset di Dragon Ball la prima serie per intenderci mi ricordo precisamente questa scena che mi rimase molto impressa del qual era? il primo torneo Tenkaichi quello in cui Goku combatte contro Krilin non mi ricordo precisamente ma vabbè arriviamo al terzo momento di contatto con Dragon Ball quello in cui grazie alla fumetteria la famosa fumetteria in cui intervistai Dario Moch a cercare video sul canale per chi non lo conoscesse all'età di 10 11 anni scoprì il manga di Dragon Ball scoprì che il manga di Dragon Ball non era diviso in due serie ma che era una cosa univoca che era tutto un lungo fumetto di 42 Tankobon e cominciai a leggere Dragon Ball mi appassionai da morire alla storia di Goku Bimbo che io non conoscevo per niente perché non l'avevo mai vista nei giochi per me era completamente nuova completamente fresca se non fosse per quelle due o tre puntate che avevo visto in tv per sbaglio da Bimbo e mi innamorai di quelle tavole mi innamorai di quei racconti mi innamorai di quei modi di raccontare avevo dei ricordi molto vividi di io che leggo Dragon Ball da Bimbo nell'età tra i 10 e gli 11 anni e continuai insomma così a leggere piano piano prendendo dei fumetti arrivando più o meno verso l'età dei 12 anni al 23esimo volume poi interruppi perché me lo recuperai in altra maniera ma parallelamente a quella serie esce Dragon Ball Super tant'è che io feci la domanda a Dario nel video in cui lo intervistai a 11 anni Dario che ne pensi Dragon Ball Super hanno uscite due puntate non più di due puntate lui ancora era incerto e fece bene poi a quanti fatti ma Dragon Ball Super fu la mia finestra di lancio per il mondo di Dragon Ball fu la mia finestra di lancio per innamorarmi di questa serie perché è stato il mio primo contatto effettivo con Dragon Ball la prima volta che oltre al fumetto originale in cui mi misi veramente a guardarmi l'anime ok che poi Zed lo recuperai solo molto dopo e me ne innamorai perdutamente nonostante le pessime animazioni le storie terribili di Dragon Ball Super ma i punti alti mi riuscivano a dare le stesse sensazioni che vivevo leggendo il fumetto su carta le stesse sensazioni che vivevo guardando i momenti più iconici dell'anime da Goku che diventa Super Saiyan tutte queste cose che ovviamente con un occhio meno critico che era quello di me di 11, 12, 13 anni perché Dragon Ball Super finì quando io avevo compiuto 13 anni poco dopo aver compiuto 13 anni per me era tutto sullo stesso livello per me era Goku per me era leggendario per me vedere Goku che combatte superi i propri limiti a raggiungere gli dei vedere Goku diventare per la prima volta senza alcuna forma di spoiler senza alcuna informazione esterna ultra istinto senza che io sapessi neanche cosa fosse l'ultra istinto che per me è una componente che gioca tanto io Dragon Ball l'ho vissuto conoscendolo tutto io sapevo già tutto di Dragon Ball quando l'ho esperienziato e l'ho amato però la componente sorpresa ovviamente gioca a favore del ricordo e il vivere insieme a tutti i miei compagni delle medie l'ultra istinto fu una cosa incredibile mi ricordo quando facevamo le prove per le prove invalsi erano i test per le prove invalsi non le prove invalsi quando facevamo andavamo in aula di informatica a fare le prove per le prove invalsi mi ricordo che ogni volta che finavamo chiamavo Lorenzo che ormai avete imparato a conoscere ragazzi mio inquilino perché non lo conoscesse che veniste da youtube e ce lo guardavamo sempre trovavamo i video di 4k appoddio col tristito che figo che figo che figo e parallelamente a tutto ciò io ho portato avanti per molti anni per moltissimi anni Dokkan Battle cosa è Dokkan Battle perché non lo conoscesse Dokkan Battle è un gioco che quest'anno farà 10 anni un gioco mobile un gacha di merda tra l'altro terribile che non si evolve da una vita ma era di Dragon Ball e io cominciavo a giocare la versione global ossia la versione internazionale in inglese all'età di 10 anni parallelamente Shibu Tokai e Xenoverse 1 cominciò a giocare ci giocavo tantissimo non trovavo un cazzo voci giravano per cui se installavi la versione giapponese del gioco trovavi più cose e ho detto sai cosa lo faccio e installai dopo un anno quindi sempre periodo 11-12 anni Dokkan Battle versione già account che tuttora possiedo a cui tuttora gioco anche se molto più saltuariamente e che conta 2750 giorni di login tenete in conto almeno 200 giorni di login saltati potete farvi due conti per capire da quanto giovi a quella roba là indicativamente per chi conoscesse il gioco ci gioco dall'uscita del banner di Super Vegeta GL nel mio account giapponese e per me Dokkan Battle ha significato tanto così come ha significato tanto Dragon Ball perché Dokkan Battle era un archivio di ricordi in qualche modo io ho sempre conservato quasi tutte le SSR soprattutto prima che erano molto più rare e difficili da trovare e per me ogni singolo SSR soprattutto sono le carte rare per intenderci soprattutto nel primo periodo in cui erano molto più difficili da trovare rappresentavano un ricordo importante io riuscirei ad aprire Dokkan a scrollare nella bacheca e riuscirei ad associare a quasi ogni carta un ricordo di qualche tipo e quando ho trovato Gotenks su Super Saiyan fisico io che ero a casa dei miei nonni stavo sotto ai piedi di mio cioè non che mio nonno mi stesse schiacciando mio nonno era steso sul letto io ero sotto le sue gambe io ci giocavo e esulto e mio nonno mi fa che? no ho trovato una cosa su un gioco e lui ah ok sto ricordo oppure quando durante la sagra di San Biagio cercando di pronunciarlo correttamente perché da noi si dice Biagio però è Biagio ovviamente che è il patrono del mio paese eravamo con Lorenzo e un altro nostro amico alla pizzeria locale in cui andavamo sempre e trovai Broly LR mamma mia la godura è indescrivibile Broly LR è una cosa assurda trovato LR io non sculavo mai oppure uno dei ricordi a cui sono più affezionato legati a Doc and Battle è quello che riguarda un film che non vi aspettereste mai durante il periodo delle medie ero preso per il culo e chiamato per qualche motivo ancora a me sconosciuto Alfonfo perché mi chiamavano Alfonfo perché non possedevo nessun personaggio definito Neo God Leader cos'erano i Neo God Leader erano personaggi che nel gioco avevano determinate caratteristiche ok? importanti erano dieci personaggi non ne trovavo mezzo non ne trovavo mai mentre gli altri li trovavano sculavano continuamente Samuel un mio amico sculava continuamente trovava di tutto e di più una volta ci menammo dalla rabbia per il fatto che lui trovava tutto quanto continuamente poi farmava come un pazzo un casino Alfonfo mi chiamavano Mattia e non ne ho davvero idea del perché e una sera mentre guardavo nella mia cameretta con la tv saranno state le undici undici e mezza per me da tardi e come cazzo si chiamava quel film no raga buco di memoria ora ve lo dico subito quel film si chiamava Selvaggi guardavo Selvaggi con Ezio Greggio e finalmente trovai il mio primo Neo God Leader Gotenks Super Saiyan 3 fisico cominciai a esultare andai in camera dei miei insultando era notte dicono che cazzo fai sveglio trovate il mio primo Neo God Leader vai a dormire rincoglionito e ci avevano ragione ci avevano ragione cazzo ci avevano ragione ma io da quei momenti poi cominciai a pensare che Ezio Greggio mi portava in qualche modo fortuna spoiler non eravo vero ma mi piaceva mi piaceva come fosse parte della mia quotidianità e Dragon Ball non era soltanto un media a cui io mi approcciavo e con cui mi divertivo non era soltanto un qualcosa che leggevo ogni tanto era proprio parte della mia socialità era parte delle piccole cose che abitavano la mia giornata c'era il gioco c'era la conversazione con gli amici c'era il momento di ritrovo per andare a giocare tutti insieme a Dokkan ci trovavamo a casa di Lorenzo per giocare tutti quanti farmare come dei pazzi su Dokkan e farmare l'LR free to play notate intere cercando di fare le prime boss rush che erano un casino ore e ore intere cercando di farle fino a quando poi non arrivavano i neo god leader che riuscivano a smuovere un po' il tutto e ho un altro ricordo sempre legato a Dokkan su cui adesso chiuderò la parentesi ed io in camera mia avevo avuto 14-15 anni non di più avevo una luce impostata sul mio mobile che mi piaceva molto era una luce calda mi rilassava parecchio che poi tolto il mobile tolsi pure la luce anche se vorrei rifare una cosa simile vabbè una parentesi stavo giocando a Dokkan mi ricordo che stavo provando a fare l'evento di Vegeta Super Saiyan 4 AGL neo god leader sempre era sempre quello il periodo ascoltavo della musica lo fai che è il periodo in cui mi approcciai anche la musica lo fai un genere a cui sono molto legato anche quello mi ricordo che mi misi dal nulla a piangere perché ero contento ero semplicemente contento ero contento di stare bene quel momento mi sentivo bene e sapevo di star facendo quello che era giusto per un ragazzo della mia età e la cosa mi commosse sul momento non so davvero dirvi di più il perché ricordo soltanto che senti il bisogno di piangere però un bel pianto non un pianto brutto e Dragon Ball è stato tutto per me è stato un metodo d'approccio a tante persone a nuove realtà a nuovi modi di socializzare a nuovi modi di apprezzare anche l'arte perché io mi sono propriamente appassionato al fumetto giapponese tramite Dragon Ball come moltissimi altri ma è una storia originale è ovvio che non lo sia ma diciamo che la particolarità nella mia storia è forse il modo in cui mi sono approcciato al media ma tutto sommato nulla di nuovo per tante persone cioè Dragon Ball è stato significativo per tanti forse anche molto più di me magari che l'hanno vissuto in maniera molto più radicale di me però mi ha sempre accompagnato come così mi hanno sempre accompagnato gli AMV su Dragon Ball io la musica l'ho scoperta con gli AMV su Dragon Ball come il 99% delle altre persone della mia generazione probabilmente o comunque di quelle che sono affini a questi campi io ho scoperto tantissime musica in quella maniera la Skrillex Evanescence Imagine Dragons i Linkin Park vabbè i suoi gruppi con cui si facevano e in the end appunto citava Manu in chat e tante cose che accomunano tanti ma che sono belle proprio per quello Dragon Ball oltre ad essere un prodotto di intrattenimento è un prodotto di comunità Dragon Ball è comunità è socialità Dragon Ball è tutti noi noi tutti siamo Dragon Ball in un modo o nell'altro Dragon Ball accomuna tutti quanti dal bambino che si sente tagliato fuori all'adulto che non lo so che non riesce a trovare un proprio posto in un contesto sociale che non riesce a trovarla Dragon Ball è tutti tutti e lo è sempre stato indipendentemente da ciò che ti possa piacere di Dragon Ball o no c'è qualsiasi possibile variante possibile da Dragon Ball Heroes a Dragon Ball Z a Dragon Ball Kai Dragon Ball GT Dragon Ball Super Dragon Ball Diamond c'è di qualunque tipo dei videogiochi Xenoverse c'è qualsiasi cosa per tutti quanti per ogni gusto per ogni genere dalla musica alle storie agli stili c'è di tutto per Dragon Ball e Dragon Ball per me è stato tutto perché è stato un motore che mi ha spinto anche a riuscire a socializzare per le prime volte a interconnettermi con le altre persone a spingermi a fare cose che non avrei mai fatto e che non avrei mai avuto interessi a fare io volevo andare in fumetteria quella famosa fumetteria lo volevo andarci perché volevo vedere Dragon Ball volevo quello e mira i micchi ma questo è un altro discorso se ho fatto quello che ho fatto se sono riuscito a fare le esperienze che ho fatto è perché ho avuto Dragon Ball comunque con me per tempo ho avuto Goku con me ho avuto Gon con me ho avuto Piccolo con me in qualche modo al mio fianco tra tante virgolette non sono schizofrenico non li vedo fisicamente però sono è stato tanto per me Dragon Ball è stato veramente tanto e continua ad essere tanto continua ad essere costantemente parte del mio quotidiano continua a parlarne ogni giorno continua ad usufruirne ogni giorno Dragon Ball Diamond Dragon Ball Super Manga seppur sia una merda videogiochi Spark in Zero seppur sia una merda pure quello tutta quella roba là è ancora con me e quando arrivò la notizia della morte di Toriyama ovviamente non l'ha presi bene l'ha presi molto male sono stato male per diversi giorni anche perché stimavo molto Toriyama non soltanto come autore di Dragon Ball 6 ma anche come artista e per la sua storia che ho sempre stimato e sempre amato e ormai riesco a parlarne prima non ci riuscivo a parlarne tranquillamente di questa vicenda ma quando morì Toriyama faticai parecchio a riprendermi per settimane intere non mentirò così come è successo per molti altri ovviamente è stato un lutto di tutti perché Dragon Ball per la punta è di tutti quindi anche il lutto di Toriyama è stato un lutto di tutti di tutto il mondo e per diversi mesi ho avuto difficoltà ad aprire un volume di Dragon Ball perché io stavo recuperando l'ultimate sto recuperando l'ultimate edition e non riuscivo fisicamente ad aprire un volume senza scoppiare a piangere mi ricordo che aprì sto volume era la scena in cui Trunks arrivava nel suo futuro ad uccidere questa è la prima forma una scena che non riterrei esattamente commovente ma che mi distrusse un po' non lo so mi misi a piangere non riuscii a smettere di piangere per un po' ed è tuttora quello che provo senza il pianto perché ormai ho superato quella frase quella fase quella frase e volevo ricordarvi ricordare anche a me stesso di come l'intrattenimento seppur spicciolo seppur anche spicciolo perché qua non stiamo parlando di intrattenimento spicciolo però anche l'intrattenimento spicciolo possa essere un punto di comunione per tutti o per tanti di come una forma di intrattenimento che dovrebbe essere fino a se stessa possa essere parte integrante della vita di qualcuno come possa cambiare la vita di qualcuno e per me Dragon Ball è stato tantissimo tanto sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista sociale che per qualsiasi cosa perché se sono come sono è perché comunque ho avuto Dragon Ball con me per tanti anni e e come dissi anche durante la recensione di Look Back nella recensione non durante la recensione di Look Back su Instagram quando vedi che il regista di cui vi perdonerete non ricordo il nome inserì per sua scelta quel volume di Dragon Ball che se non erro era il 19 non mi ricordo o il 32 vabbè sulla scrivania delle protagoniste come riferimento diretto per loro come un qualcosa da dove da così importante per un artista da sentire il bisogno di tenerla davanti agli occhi che mi ricordò tra l'altro anche l'approccio sia di Oda che di Kishimoto al riguardo che tutti lo definivano un dio Toriyama nelle sue cose e quando vedi quella cosa dopo tanti mesi che ormai erano passati dalla morte del maestro mi fece capire come veramente Dragon Ball sia comunità per tutti Dragon Ball sia una cosa di tutti Dragon Ball sia un amore di tutti un amore che a volte rimane solo un intrattenimento che a volte diventa però molto più diventa parte della tua personalità parte di te e anche parte di te come artista indipendentemente dal fatto che tu ti ritenga davvero artista o meno alla fine siamo tutti un po' artisti scusatemi un attimo 40 anni di Dragon Ball tra cose belle e cose brutte io come spesso faccio ringrazio Toriyama per quello che ci ha dato per quello che mi ha dato per quello che mi ha dato come persona anche da un punto di vista emotivo caratteriale parte di me è Dragon Ball negli atteggiamenti nei modi di fare nel senso di bontà che cerco di dimostrare ci provo non mi ritengo una persona buona ma ci provo io dico sempre così che non mi ritengo una persona buona non voglio ritenermi una persona buona anzi però ci provo e se ci provo un po' di più e perché tra le altre cose tra le tante altre cose Dragon Ball mi ha anche insegnato fra tutti che è giusto farlo e che fa bene farlo concludo dicendo che non c'è molto altro da dire concludo dicendo che ringrazio per la seconda per la quarta non so quanto sia arrivato Toriyama ringrazio Dragon Ball ringrazio Goku ringrazio tutti coloro che gli sono stati attorno e che mi sono stati vicino nel tempo perché alla fine noi tutti noi tutti siamo Dragon Ball in qualche modo quindi Grazie.